Buonasera amici di Super J. Il passaggio dall'ora solare a quella legale che avverrà alle ore 2 di questa notte sarà accompagnato da un miglioramento del tempo. Infatti ci attende un inizio di domenica all'insegna del cielo poco nuvoloso al più nuvoloso, ma dal pomeriggio aumento di nuvole da sud-ovest con prime precipitazioni in Sardegna e sparse al centro-sud lato tirrenico. La prossima settimana si annuncia di nuovo molto instabile o perturbata per l'arrivo di aria fredda da nord-est, ma ne parlerò nel dettaglio lunedì prossimo. In Abruzzo domenica all'insegna del cielo irregolarmente nuvoloso, ma con ampi spazi di sereno. Aumento della nuvolosità dalla sera con possibili deboli precipitazioni sul settore aquilano. I venti saranno deboli di direzione variabile ai di mari poco mosso quasi calmi. Le temperature minime di questa notte comprese tra 2 e 9 gradi e le massime di domani in ulteriore aumento e comprese tra 11 e 16 gradi. Per le previsioni è tutto, l'appuntamento con la rubrica meteo e per lunedì mattina. Un buon weekend da Marco.